Siete pronti a scoprire cosa è successo e come questa drammatica notizia sta influenzando la Chiesa e il mondo intero? Continuate a guardare perché questa è una storia che non potete permettervi di perdere. Papa Francesco, il Pontefice, ha affrontato una situazione estremamente delicata durante la sua prima udienza mattutina. Era un momento atteso da migliaia di fedeli, ma ciò che è successo ha sconvolto tutti quanti. Il Papa si è presentato davanti ai fedeli, ma la sua voce affaticata e il suo viso segnato dall'inquietudine dicevano più di mille parole. Nella sua accoglienza Papa Francesco ha detto «Buongiorno, vi do il benvenuto, grazie di questa visita». A me piace molto, ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate. Quando le parole sono uscite dalle labbra del Papa, c'era un silenzio tombale nell'uditorio. Quelle parole, pronunciate con voce affaticata, hanno acceso un mare di preoccupazioni tra i fedeli e il mondo intero. La sua decisione di non leggere il discorso preparato ha scatenato una serie di domande. Che cosa sta accadendo alla salute di Papa Francesco? Quali saranno le implicazioni di questa decisione per il futuro della Chiesa? Continuate a guardare perché nel corso di questo video cercheremo di gettare luce su questa situazione e capire come essa sta influenzando il Pontefice, la Chiesa e l'intero mondo cattolico. Come pensate che queste condizioni di salute influenzeranno il Pontefice e la Chiesa? Lasciateci la vostra opinione nei commenti. Papa Francesco aveva una fitta agenda di incontri personali e udienze pubbliche in programma per la giornata, come è tipico nella sua posizione di guida spirituale. Tuttavia, quello che rendeva questa giornata particolarmente straordinaria era l'evento previsto per il pomeriggio. Un incontro nell'aula Paolo VI con 7.000 bambini provenienti da tutto il mondo. Si trattava di un evento attesissimo, un'occasione unica per il Papa di condividere il suo messaggio con le giovani generazioni e di ispirare il futuro del cattolicesimo. Ma ora, alla luce delle sue dichiarazioni sulla sua salute, sorge la domanda come influenzerà questa situazione l'incontro con questi 7.000 bambini? Quali emozioni e pensieri attraversano la mente di Papa Francesco e dei partecipanti? Continuate a guardare per scoprire come questa giornata eccezionale si svilupperà e quale sarà il suo impatto su tutti coloro che vi prenderanno parte. Vi invito a iscrivervi al nostro canale Notizie Live Stream e ad attivare la campanella delle notifiche. In questo modo non vi perderete nessun aggiornamento in futuro. L'annuncio delle condizioni di salute di Papa Francesco ha scosso profondamente la comunità dei fedeli in tutto il mondo. Le notizie si sono diffuse rapidamente e i credenti di ogni angolo del pianeta sono rimasti col fiato sospeso, preoccupati per la salute del loro caro Papa. Non solo i cattolici, ma anche molte altre persone di diverse fedi e convinzioni hanno dimostrato un forte interesse per il benessere del Pontefice, il quale è una figura di grande risonanza e influenza globale. Questo evento ha fatto emergere una serie di domande sul futuro e sulle decisioni che Papa Francesco potrebbe essere costretto a prendere in virtù della sua salute. Come si evolverà questa situazione? E quali saranno le implicazioni per la Chiesa e per il mondo? Le risposte a queste domande sono attese con ansia da milioni di persone. Noi di Notizie Live Stream rimarremo costantemente aggiornati su questa notizia e continueremo a seguire da vicino Giali sviluppi futuri. Siate certi che vi terremo informati e condivideremo con voi tutte le ultime notizie relative a questa vicenda. Continuate a seguirci per rimanere al passo con questa storia in continua evoluzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.